Timbre Valagri Turismo Abbiamo seguito i progetti dell'Università di Camerino, dal nuovo studentato che accoglierà 456 studenti ad un centro di ricerca nazionale, intanto nel villaggio dei container ci si prepara alla laurea. È stato consegnato un nuovo ecografo portatile di ultima generazione all'Unità Operativa di Pediatria del Materno Infantile Dorico, grazie all'impegno della Fondazione Salesi e al finanziamento della Fondazione BNL. Una crescita del 12,8% in 5 anni per le enoteche delle Marche con la presenza di 167 oasi del vino in tutta la regione e quanto emerge da un'analisi col diretti. Buonasera da ETG Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV in apertura, come avete letto ed ascoltato dai nostri titoli la pagina della cronaca, un nuovo caso di furbetti del cartellino. Timbra e Vallagri Turismo, questa volta a finire nei guai un dipendente dell'ospedale di Camerino scoperto e denunciato dalla Finanza. Un assenteista dipendente dunque dell'Asur Area Vasta 3 in servizio presso l'ospedale di Camerino è stato scoperto dopo una serie di pedinamenti dalle fiamme gialle Camerti. Denunciato per truffa gravata, peculato e interruzione di pubblico servizio timbrava il cartellino a inizio turno per poi allontanarsi per ore dall'ospedale di Camerino senza alcuna autorizzazione né tantomeno con qualcuno che lo sostituisse per recarsi a fare spesa per intrattenersi presso un agriturismo della zona o ancora per tornarsene a casa e fare rientro nel nosocomio solo all'orario di fine turno per la timbratura di fine giornata. L'assenteista, come detto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per i reati di truffa gravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, peculato e di interruzione di pubblico servizio. I vigili del fuoco sono invece intervenuti lungo la strada provinciale 16 al chilometro 19, lungo la strada che da Fabriano va a Sassoferrato nei pressi dell'incrocio per Bastia per un autocarro che si è rovesciato su un fianco a causa del forte vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'automezzo e prestato assistenza durante le fasi di recupero, non ci sono danni a persone, la strada è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto durante la rimessa in strada dello stesso autocarro. Tanta paura invece ma per fortuna nessuna grave conseguenza nel pomeriggio di oggi in un appartamento di via Galoppo a Chiaravalle dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che delle fiamme avevano avvolto la canna fumaria di una palazzina di due piani. I pompieri hanno dovuto rimuovere parte della copertura in quanto le fiamme si erano già propagate alle travi del tetto. Sul posto 5 automezzi con 12 pompieri la struttura non ha subito particolari danni e per fortuna nessuno si è fatto male. Cambiamo argomento ora, ci spostiamo a Camerino, siamo andati a seguire con le nostre telecamere quello che succede e i progetti dell'Università di Camerino. Dal nuovo studentato che accoglierà 456 nuovi giovani ad un centro di ricerca nazionale intanto nel villaggio dei container ci si prepara al conseguimento delle lauree. Vediamo il servizio di Lucio Cristino. Che vengano preparati nuovi alloggi migliori dei container perché comunque sì ci siamo adattati ma non è sempre facile vivere qui. Pensi che ti lavorerai in un container o credi che per quel tempo avrai una casa su cui stare? No, penso nel container. Contare il singolo centimetro in un villaggio di lamiere, libri e giornate spensierate vista a disastro. Ecco il villaggio degli studenti di Camerino in zona Vallicelle, 230 ospiti che studiano, seguono corsi, fanno esami, si laureano. La vita procede a Unicam, Claudio Pettinari, il rettore segue domeniche comprese i lavori dello studentato da 456 posti frutto di una donazione di Trento e Bolzano e di fondi di Ateneo per un totale di 13 milioni di euro. Il progetto per l'Università Campus è il progetto per l'Università Campus che farebbe lievitare oltre mille i posti a disposizione dell'Università. Immaginate in un'area come questa 400 persone che al mattino partiranno e si recheranno per andare a seguire i corsi che si svolgono lungo la collina dove abbiamo i nostri dipartimenti scientifici. Che scadenze possiamo aspettarci? Credo che questo primo lotto fra febbraio e marzo sarà nelle disponibilità dell'Ateneo. Per gli altri tre lotti un paio di mesi in aggiunta ma noi inizieremo la consegna delle stanze non appena gli edifici saranno pronti e quindi inizieremo già con questo primo lotto. Superata la paura delle scosse dell'autunno 2016 gli studenti a Camerino sono tornati per la gran parte. È a portata di tutti a livello dello studente, è sempre attenta ai bisogni, non è una grande università in cui ci si può disperdere, si trova sempre quello di cui c'è bisogno. La sfida sul futuro si gioca sui tempi e sui finanziamenti. Sono oltre 130 milioni di euro impegnati dall'Ateneo aspettando la catena annunci, fondi, versamento nelle casse di Unicam. Non ho ancora ben chiaro quelle che potranno essere le risorse che verranno erogate all'Università di Camerino, che ha subito un danno enorme perché parliamo di 43 mila metri quadri non più disponibili, di un danno anche all'immagine importante. Dirci semplicemente che le risorse ci sono, sono tante, sono a disposizione, non è sufficiente. In Chiave Futura è il progetto di un centro di ricerca, un CNR dell'Aquila, se ci si passa il paragone, in versione Camerte. È un centro di circa 6 mila metri quadri, dove vorremmo far crescere insieme chimici, fisici, geologi, biologi, cioè ricercatori di vari settori. Al termine del suo mandato da Rettore, come immagina l'Università? Che cosa le piacerebbe poter dire? Io ho contribuito a questo. Se vedo completato il 30% dei progetti che ho in mente, sarò veramente un uomo felice e fortunato. Voglio continuare a studiare qua, tanti ragazzi. La montagna potrà riprendere solo se riprenderà questa incredibile fabbrica di cultura e di economia. Capitolo Banca Marche, infuocata assemblea a macerata organizzata da Adiconsum. Sentiamo. Ho acquistato queste azioni praticamente sempre su, diciamo, ecco, la spinta della Banca Marche, quando praticamente andava tutto bene. Sono rimasto, cioè, alzerato, diciamo, ecco. Azioni legali, beh, personalmente no, però è successo ad aderire a un gruppo che magari, non so, c'è da, ecco, cercare di recuperare qualcosa, venga, diciamo. La mia storia è stata, purtroppo, avere fiducia della Banca Marche. Quando ci siamo accorti che era il caso di venderle, era troppo tardi, non valevano più niente. La giustizia in Italia è molto strana. L'Ubibanca è talmente stupida da poter fare una cosa del genere? Queste sono solo due delle tante domande e perplessità che hanno i tantissimi risparmiatori di Banca Marche. I dati sono impietosi. Dei 45.000 risparmiatori, solo circa 7.000 si sono mossi per informarsi su eventuali risarcimento, le denunce, poche centinaia. Per questo CISL Marche e Adiconsum Marche hanno organizzato un incontro alla Domus San Giuliano di Macerata. Ce lo presenta la responsabile del settore finanziario di Adiconsum Marche, Loredana Baldi. Molti sono stati spaventati dalla complessità della procedura civile e forse anche dai costi della procedura civile. Noi invitiamo assolutamente tutti coloro che ancora non hanno fatto nulla o che sono rimasti fino adesso un attimino sul chivalà ad attivarsi perché possono tranquillamente venire presso le nostre sedi in maniera tale che possano proprio valutare la possibilità di intraprendere una vera azione per tutelare i propri diritti. Presente anche l'avvocato Diomede Pantaleoni, consulente legale di Adiconsum Marche, che ha informato i tanti presenti sulle ultime novità. Le novità sono importanti perché recentemente ci sono state le prime sentenze che hanno riconosciuto il diritto dei risparmiatori, degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati a richiedere i danni alla banca che è subentrata a vecchia banca Marche, quindi nuova banca Marche e adesso UBI. Diciamo che la via è questa, purtroppo la sensazione è che molti degli azionisti abbiano rinunciato di fatto a richiedere il risarcimento. Questa è una scelta soggettiva, però chi vuole ha la strada aperta del tribunale. Anche Marco Ferracuti, segretario CISL Marche, invita gli azionisti ad agire. Come CISL siamo stati i primi a credere nella possibilità che poi la banca che avrebbe rilevato, banca Marche, avrebbe dovuto, oltre ad aver preso, prendere crediti e debiti, anche essere responsabili degli azionisti. Ci sono molte possibilità che i tanti piccoli azionisti possano vedere riconosciute il corrispettivo delle proprie azioni. La pagina della sanità, buone notizie per l'ospedale di Cingoli, perché tornerà il punto di primo intervento. È stata votata nella seduta odierna del Consiglio delle Marche una risoluzione in questo senso. Ripristino del punto di primo intervento, mantenimento del medico radiologo, adeguamento di struttura e attrezzature. Buone notizie per l'ospedale di Cingoli dall'aula dell'Assemblea Legislativa delle Marche, dove è stata votata all'unanimità una risoluzione per il nosocomio, peraltro, in zona cratere, dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre 2016. Una condivisione di intenti trasversale a livello politico. Dopo il terremoto, la giunta regionale aveva chiesto e ottenuto dal Ministero che il punto di primo intervento della struttura di Cingoli, trasformato nel frattempo in punto di assistenza territoriale, venisse ripristinato, come peraltro avvenuto in deroga per Tolentino e Recanati. Al momento a Cingoli, con il punto di assistenza, il lavoro viene svolto da una postazione del 118, che dovrebbe indirizzare l'ammalato ai pronto soccorso di Iesi e Macerata più attrezzati, ma andando spesso incontro a lunghe attese, anche di 7-8 ore, specie se si tratta di codici verdi e bianchi. Con il ripristino del punto di primo intervento e la presenza del medico ospedaliero, si dovrebbe evitare i bambini nei reparti, evitando spostamenti. Acquistato grazie all'impegno della fondazione che opera all'interno dell'ospedale tramite il sostegno della BNL. Si propone come ausilio diagnostico nell'assistenza clinica, questo grazie ai vantaggi che questo tipo di strumento offre nelle mani del pediatra. È un esame rapido, semplice da eseguire e soprattutto ha un alto profilo di sicurezza. Ecco, e questo permette anche di fare interventi, diciamo bene, invasivi per la diagnostica sui bambini? Sì, perché l'obiettivo è quello per esempio in alcune patologie, tipo patologie del torace, di riturre l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti. E questo permette ovviamente anche di seguire in maniera più accurata e nel tempo alcune patologie, cosa che non è così semplice fare con indagini diagnostiche che richiedono l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. La patologia, ad esempio, respiratoria è una delle patologie più frequenti in tal pediatrica ed è la ragione per cui i bambini spesso vengono ricoverati. Ed è proprio in questa patologia che verosimilmente utilizzeremo di più questo tipo di tecnologia. Questo è l'ennesimo tassello che si inserisce all'interno di una programmazione più ampia che riguarda le politiche sul personale ma anche le politiche sugli investimenti. Siamo veramente onorati e orgogliosi di presentare oggi questo prodotto che migliorerà moltissimo la vita dei piccoli pazienti. Il macchinario costa 20.000 euro e si inserisce nell'ambito del progetto Manomica. Manomica è un progetto che riguarda BNL ma tutto il gruppo BNP Paribas, tutti i dipendenti. In pratica finanzia dei progetti che portano avanti i dipendenti della BNL in tutta Italia lavorando all'interno di organizzazioni di volontariato come sono le Onulus o altri tipi di iniziative locali. Una crescita del 12,8% in 5 anni dal 2012 al 2017 per le enoteche delle Marche con la presenza di 167 oasi del vino in tutta la regione. Quanto emerge da un'analisi di Coldiretti e della Camera di Commercio di Milano dalla quale si evidenzia dunque la crescente attenzione alla qualità negli acquisti di vino che è diventata una espressione culturale da condividere con amici e parenti. Tra le province quella di Ancona con 57 a guidare la classifica delle presenze sul territorio appunto di enoteche seguita da Pesaro Orbino con 35, Macerata con 31, Ascoli con 25 e Fermo con 19. Noi ci fermiamo ma solo per una brevissima pausa, tra pochissimo subito dopo di noi la linea a Marche Flash. A presto! Grazie a tutti.